I got options, I can pass that bass like Staggert Di questi altri, se non fosse perché simulo tante carriere simulate, tanti fanta draft, tante cose su NBA 2K Io questi qui non avrei mai sentito parlare né nominare il loro nome appunto prima d'ora Anche perché io comunque un po' di pagine, un po' di video YouTube, un po' di cose Me le guardo, me le seguo, TikTok e tutto quanto Può capitare che ti becchi gli highlights di questo qui Invece vedo un sacco di highlights del figlio di Carmelo, di Bronny e di Bryce Del povero Nick Smith e di tutti gli altri che magari, non tutti gli altri ma qualcun altro andremo a vedere Anche Anthony Black che ho scoperto gioca assieme a Nick Smith Non ho mai sentito parlare, non se ne caga un po' nessuno a livello social Però occhio che magari andiamo a scoprire qualche gemma nascosta assieme C'era scritto in precedenza che Nick Smith è reduce da un infortunio Non so di quale tipo e non so di che entità, casomai se lo sapete fatelo sapere nei commenti È una point guard combo guard che si prospetta una alta lottery pick Ed è salito molto nel corso di queste prime partite della stagione al college Adesso andremo a capire perché Allora, vediamo un po', questi qui dovrebbero essere... Ah, buongiorno, dovrebbero essere gli highlights del high school Quindi roba un po' più vecchia, lo vedremo dominare anche perché giocare a cara contro i bambini Anche se tanto più i bambini, visto che c'è bronni all'high school, non mi sembrano più tanto bambini Mi portenerete per l'assenza del green screen ma intanto vi potete godere l'alberello di Natale Ovviamente vi ricordo di lasciare un bel mi piace, a mille mi piace abbiamo il prossimo episodio Anche perché tanto con questi video becco sempre copia e non ci faccio un centesimo Almeno lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e magari anche un commento per supportare il tutto Ok, allora, la comparison era Gilbert Arinas, se avete visto dal mock draft Che è una comparison strana perché Gilbert Arinas ha avuto degli alti incredibili e dei bassi altrettanto incredibili Ok, cercherò di non gasarmi troppo visto che gioca in questi sono all'high school Questi highlights Dicevo, ha una lunghezza degli arti sopra la media, si vede già Cioè non è grossissimo, non è Jaden Ivy Potrebbe, non lo so, adesso non mi viene in mente così su due piedi Però veramente braccia e gambe lunghissime Mi verrebbe quasi a dire che non ha finito di crescere, ma dubito Quello era il Jordan Classic, bellissimo tra l'altro, quella partita, quel parquet lì, una figata pazzesca Deum Deum Guardate anche queste partite qua Queste, queste sembrano, scusatemi se, scusatemi se interrompo Questo sembrano veramente le partite che ti fanno fare nella MyCareer Che dici, ma com'è possibile che giochino in questa palazzina al decimo piano Con i grattacieli fuori in baglia bianca e baglia nera e quattro persone attorno Cioè, queste sembrano veramente le partite che ti fanno fare la MyCareer di NBA 2K23 Ma perché noi non le vediamo queste qui? Ma perché esistono veramente? E questi probabilmente saranno tutti addetti ai lavori Barra scout Che vanno a vedere questi giovani talenti Sono veramente incredibili queste partite qua Mi piacerebbe un sacco presenziare a questo tipo di partite Lui era il numero 3 comunque, ecco, che ha mollato quell'assistino lì Vediamo una roba un pelino più recente di quest'anno Delle prime partite di quest'anno al College Fisicamente, mi sa, ha le vibes incredibili da Brandon Ingram Questo Nick Smith Jr. Poi come gioco non c'entra niente perché ovviamente è una Poinger Tra l'altro adesso sarebbe stato messo a Houston Diciamo, se l'NBA e la Lottery arrivassero adesso Houston non ha assolutamente bisogno di questo giocatore Diciamo, questo qui, questo Nick Smith a differenza di Wayne Bagname Di Scoot Anderson dipende molto anche Uno, da che squadra arriva alla 3, alla 4, alla 5 Dove potrebbe essere scelto Due, lui in che squadra si trova Cioè dal punto di vista della franchigia si ha bisogno di un esterno E due, lui come si trova e come riesce a giocare in quella franchigia Cioè che abbia talento mi sembra abbastanza ovvio Mi verrebbe a dirvi un Jordan Poole Ecco, il Jordan Poole che ha bisogno magari di uno o due anni per ambientarsi Trovare il mentore giusto Non tutti hanno Steph Curry come mentore Però ok E magari puoi brillare Perché il talento mi sembra che c'è Il rilascio c'è, la penetrazione c'è, il palleggio c'è Gli assist ci sono La difesa purtroppo come sempre è difficile a dirsi Con quel fisico lì Immagino possa fare difficoltà in NBA Nella metà campo difensiva Pirouetta della cosa Della cheerleader e via Siamo tornati con gli highlights anche del Ah, ho detto pensavo segnasse questa roba Si è beccato un chiodo Beh, bello perché ci fa vedere anche un po' le magagne qui Questo era un fallo non fischiato Eccolo qua anche col tiro da 3 Qui dove ci fa vedere anche le magagne lo sto vedendo perdere abbastanza palloni Poi magari la partita per l'amor del cielo Mi continua ad assomigliare a Jordan Poole con le leve del corpo un po' più lunghe Ecco, però sì Dipende quale Jordan Poole Ecco, non so la versione da Superman dell'anno scorso O le prime versioni da G League dei primi anni Ecco, cioè nel senso Insomma, rispetto agli altri due è un netto passo indietro Purtroppo, se gli altri due sono due giocatori clamorosi Wembaniamo su tutti Potenzialmente, si intende sempre Ma sono già molto buoni, già così come sono Questo non è un giocatore normale Per l'amor di Dio È un super talento, lo si vede Però, sì C'è tanto di già visto, ecco Non è che dici uno di quei rookie generazionali Per l'amor del cielo Ciò non vuol dire che possa essere ottimo Per la propria franchigia che lo sceglie Forza la 3 è un po' too much Non lo so, difficile a dirsi Per farvi capire stiamo parlando di uno che sta segnando in 5 partite Una, oltretutto, cominciata dalla panchina Penso per via di questa ripresa dell'infortunio In 24 minuti a partita sta segnando 13 punti 2 assist, 2 rimbalzi 30% da 3, 44 da 2 e 39 dal campo C'è Niente, ma niente a che vedere con Scoot Anderson e Wembaniamo Ma eh, ma niente a che vedere Come qui lo si vede molto giocare anche lontano dalla palla Evidentemente non deve essere lui playmaker totale Poi riceve e magari l'attacco va da lui Che comunque non è una cosa da poco Perché se sei la grande stella della squadra Magari in Seattle ti avevano 50 palloni Poi in NBA te ne ritrovi a giocare con 5 Vedi già Barry Smith Jr. quest'anno ai Rockets Per fare un esempio Non è semplice Quindi uscita da blocchi Sembra veramente Cioè, più lo vedo più sembra Jordan Poole All'inizio di carriera O comunque nel senso pronto già per giocare agli Warriors Sto buono Eh, schiacciato, sì, sta minchia Ho provato a buttare un occhio per trovare qualche highlight difensivo Ma come potete immaginare qui è difficile da trovare Non mi riesce a creare molto entusiasmo questo Nick Smith Devo dire la verità Per chiudere diamo un'occhiata al suo compagno di squadra Anthony Black Dato alla sette ai Magic Sempre ad Arkansas Sempre un freshman al primo anno al college Questo è un bouncy Josh Giddi Scriverlo qua Una guardia alla piccola, diciamo così Con una Elite Passing Ability Eccolo qua sempre Scusatemi, ma a parte questa area pitturata di questi Krayton Cos'è la roba più bella dell'universo Anche se non c'entra niente con niente Bellissima Prima cosa Seconda cosa Ma chi ha scritto Wing là nel Mock Draft? Gioca Playmaker questo Mi sembra di capire Però Poraccio Ma si rubano il posto a vicenda quindi lui e Nick Smith Ecco forse perché se non se ne sente molto parlare Perché devono dividersi il parquet Forse giocava prima dell'infortunio Adesso non gioca Non so, non sto capendo la situazione ad Arca Sono la sfiga di avere i due giocatori forti Micchia I due giocatori forti nello stesso ruolo Sì, gioca senza dubbio Playmaker il ragazzo Anche perché sta chiamando schemi e tutto Mettila là Ulla madonna, bello Sì, tanti assi Stai nei suoi highlights Quindi questa elite passing ability Effettivamente pare veritiera Cappello ne abbiamo Solo per il cappello mi ricorda Kobe White Questa è un po' too much Già pronti per gli alley-oop in NBA Con questo passaggio Un po' sbasso addirittura Cos'è? Vabbè Ma quanto è alto, scusami? Minchia, bello questo, eh Non era mai fallo della difesa Ha provato a prendere il fallo Ma l'ha toccato lui E Nick Smith è 6,5 Mentre Dov'è? 6,7 Ah, quindi un po' più alto 185 Cosa sono centimetri? Non saranno centimetri di wingspan Boh, vabbè Ah, uguale Ok Ma due giocatori particolari Per quel poco che ho visto di Anthony Black Giocatori che però purtroppo Vengono oscurati soprattutto da lui E anche dal buon Scoot Che già a sua volta Viene oscurato da Vigitron Abbiamo già parlato mille volte E così E... Sì Sì Belli Ok, tutto Beh, schiacciate E là Non lo so in NBA Non sono rimasto di certo gasato Voglio però sapere la vostra Molto importanti commenti Fatemi sapere se secondo voi La compariso con Jordan Poole Soprattutto di Nick Smith Può essere sensata Ti direi che lui Più che ai Rockets Me lo vedrei bene Per dire a Jornets A fare coppia con Con la Melo E invece Anthony Black Potrebbe stare bene Tipo a fare il play Il play di riserva Agli Spurs Mi è venuto in mente adesso Ripensandoci Anche lui potrebbe Prendere giovamento Visto che gioca bene Lontano dalla palla Con gli Spurs Eh Lui potrebbe essere Uno di quelli Che gli Spurs Lo fanno diventare Un signor giocatore A differenza magari Di finire a fare Il quarto play A Orlando La terza guardia A Houston E il settimo Giovane Ok si Non lo so Fatemi sapere la vostra Vi ripeto Mi hanno impressionato Ma non troppo Mi piace per il prossimo episodio Buon Natale Buon anno Non so quando verrà pubblicato Questo video In caso auguri boys Ci vediamo ogni sera In stream E nei prossimi giorni Con un nuovo video Ciao boys